È sempre stato difficile per Angelo e Demone andare d'accordo. Ma che succede se si innamorano anche loro di un solo ragazzo? Beh, e preni i popcorn! Angelo e Demone stanno di nuovo litigando per qualcosa. Litigano sempre per qualcosa. Ho intenzione di prendere il ragazzo più figo del college. Eccolo lì, è così bello! Wow, è bellissimo! No, non quello! Ewald, è nuovo qui! È mio! Ah no! Questo lo vedremo! Sembra che l'angelo si sia innamorato. Oh, cos'è questa sensazione? Non vuole lasciare la foto di Ewald. È pronta ad addormentarsi abbracciandola. Ora sognerà sicuramente Ewald. Oh, è così divertente! Dormire con una foto. Fammi vedere. Uh, il nostro angelo si è innamorato. Non ci credo. Prima l'amore, poi il matrimonio. Dammi la foto. No, anche a me piace. È così carino. Guardalo! Lo appenderò sopra il mio letto. Sembra che Ewald avrà delle difficoltà nel suo nuovo college. Un test? Di già! Wow! E niente telefoni! Miss Mary è molto severa. Bene! L'angelo e il demone sono lì. Non lo ignorano quando ha bisogno di aiuto. Ehi, vuoi che ti aiuti? Penso di poterlo fare da solo, grazie. Ehi, cos'è questo rumore? Siete qui per studiare? Fate l'esame! Oh, davvero? Non preoccuparti, Ewald. Faremo tutto insieme. Guarda, scrivi dieci qui e venticinque qui. Mmm, grande! Ottimo! Senti, è questa? Ups, non credo che l'abbiamo ancora studiata. Guardiamo il libro di testo. Eccolo qui. Sbrigati, scrivi la risposta. Che succede? Metti via il libro. Ehi, Ewald, chi ha bisogno di studiare? Vieni al lato oscuro e andiamo a divertirci. E il test? Oh, andiamo! Sarà divertente! Ewald, non ascoltarla. Abbiamo ancora molto da fare. Guarda qui, ti spiegherò tutto. Non c'è tempo per il divertimento. Oh, quell'angelo! Ho un'idea! Nessun test, nessun problema. Vediamo che dici adesso. Oh no, guarda, il test va a fuoco! Sbrigati, spegnilo! Oh, basta! Che succede qui? Una F per il test e per l'incendio in classe. Cosa? Non è giusto! Non è colpa mia! Grazie aiutanti! È tutta colpa tua! Cosa? Chi ha cominciato? Sbrigati, seguilo! Oh, i ragazzi di oggi! Il demone ha deciso di chiedere di uscire a Ewald. Una benda per gli occhi! Devi avere in mente qualcosa di romantico. Lo vedrai! Non preoccuparti, ti piacerà! Ups! Un po' più a destra! Entra, siamo arrivati! Ti auguro una bella serata! Oh no! Sono sul ring! Ehi! Perché è accaduto? Come va, tesoro? Ti è piaciuto? Ed è solo l'inizio! No! Dove mi hai portato? Non voglio! Cominciamo! Primo round! No, no! Aspetta, aspetta! Facciamo un accordo! Non voglio! No! Tesoro, stai bene? Lascia che ti aiuti! Ecco, bevi questo! Sarà più facile! Che succede? Perché sono qui? Secondo round! Oh no! Non ce la faccio! Non avere paura! Alzati! Puoi farcela! Oh, è così coraggioso! Mio eroe! E ora che faccio? Guarda, è un uccello! È ora di uscire! Ehi, non così in fretta, piccola! Aiuto! Mi stanno uccidendo! Aspetta! Non abbiamo ancora finito! La parte migliore è in arrivo! Eccoci! Ora ci siamo! Evold, tutto bene? Hai ancora il terzo round da fare! Tesoro, come stai? Oh no! Bel libido! Tieni, bevi questo! Hai quasi finito! Puoi farcela! Oh, va bene! Tieniti forte! Sto per attaccare! Ups! Era un muro! Sembra che io sia un po' stanco! Quarto round! Oh no! Non voglio combattere! Sei così determinato! È incredibile! È al dodicesimo round! Beh, perché non giocare all'aeroplano? Ti piace girare? Ultimo round! Finiscilo! Se lo dici tu! Round 666! Sarà interessante! Andiamo, Evold! Puoi farcela! Oh sì! Gliela farò vedere! Forza! Sto aspettando! Bel colpo! Tesoro, sei vivo? Sveglia! Ma chi hai fatto? Gli serve aiuto! Aspetta un attimo! Ecco qui! Che divertente! Sono così brava! Ma l'angelo sa come organizzare un appuntamento davvero romantico! Wow! Tutto questo per me? Certo! Cominciamo! Wow! È fantastico! Musica dal vivo! Wow! Molto meglio che combattere! Ma solo le persone di classe si divertono con cose come questa! E Evold ha improvvisamente voglia di fare un pisolino! I suoi occhi si stanno chiudendo! Perché la musica classica lo fa addormentare? Ok, mi riposo un po'! Oh! Stai russando? Certo! È così noioso! Sistemiamolo! Così va meglio! Sì! Alza il volume! Cosa? Che succede? Svegliarsi con la musica rock ad alto volume non è così bello! Demone! Che hai fatto? Hai rovinato una serata così bella! Non è giusto! È ora di mangiare! Gli hamburger sono il cibo migliore! Cos'è questo? Dov'è il pranzo? Dovresti mangiare cibo sano! Ecco cosa ti serve! Questo cibo per conigli! Sono un umano! Ma è molto sano! Mi prendo cura del tuo corpo! Mmm! Che bello! Vuoi un pasto davvero delizioso? Certo che sì! Io questo non lo mangio! Un attimo solo! Uh! Così va meglio! Il mio cibo preferito! La strada per il cuore di un uomo è attraverso il fast food! Non capisci niente di cibo sano! Delizioso, vero? Oh sì! Gli hamburger sono ottimi! Sembra che il demone abbia un piano subdolo! È una trappola! E-wolf sta arrivando! Gli ultimi ritocchi! Tutto è pronto! È ora di andare! Oh no! Aiuto! Cos'è? Dove sono? Benvenuto, Ewald! Vai come se fosse a casa tua! No, grazie! Fa un po' caldo qui dentro! Sono qui da molto! Forse dovrei andarmene! Siedi! L'appuntamento è appena iniziato! Non è una bella atmosfera! Il demone sta affilando i coltelli! No! Sono ancora così giovane! Una corda! Non ci credo! Da dove arriva? Credo sia ora di uscire da qui! Addio! Ehi! Dove vai? Non abbiamo ancora finito! È così carino! Ciao! Non preoccuparti! Sei al sicuro qui! Siamo tra le nuvole? Sì! Siamo sulla nuvola 9! Wow! Un po' altino qui! Per oggi basta con gli appuntamenti! Io andrei a casa! Perché non ci sediamo un po' per una bella chiacchierata? Eh no! Me ne vado! Buona giornata! Ops! Ewald! Che hai fatto? Cadrai! Credo che questo sia il terreno! Davvero? Che giornata! L'angelo e il demone non possono dividere Ewald a metà! Perché continui a interromperci? Non vedi che è mio? Oh no! Sono io meglio per lui! Vedrai! Staremo benissimo insieme! Sono così stufo di loro! Ecco la via d'uscita! Ehi! Che ci fate entrambe qui? Andatevene! E non voglio vedervi mai più! Cos'è stato? Sono confusa! Uh! Guarda com'è carino! Uh! Ehi! Ehi ragazze! Perché non facciamo un giro? Perché no? Cosa? Perché interrompi di nuovo? È mio! Oh! Questo lo vedremo! Amore mio! Giusto in tempo! Mi hai salvato! Davvero? Se fossi in te, non salterai subito alle conclusioni! Oh! Ti è piaciuta la storia sulla lotta tra il bene e il male? Quale di questi personaggi ti ricorda te stesso? Scrivilo nei commenti! E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo sketch su Angelo e Demone su Troom Troom Select! E vediamo il video!